Io sono Nestor, vengo dalla Costa d'Avorio, ho 27 anni, sono un volontario della Croce Rossa di Giaveno. A me mi piace tanto raccontare e condividere la mia storia, perché non tutti che sanno come mai che siamo qui o come mai che sono qua. Io sono partito dalla Costa d'Avorio, ho passato il deserto, ho arrivato in Libia nel 2012, ho lavorato lì tre anni, ma ho un problema, difficoltà per vivere lì. Non hai pace di vivere per lavorare, a questo punto sono venuto in Italia in barca, il gomone. Il viaggio è stato pesante, ma sono arrivato in Italia nel 2015 e mi sono chiesto di entrare e diventare volontario della Croce Rossa, perché a me mi piace aiutare altri a quelli che hanno bisogno. Io ho avuto sulla strada le persone che mi hanno aiutato, quindi io ho capacità anche di aiutare altri che hanno bisogno. A me è una cosa importante di imparare, di ragazzi, che devono sempre chiedere, a capire, prima di parlare o prima di dire qualcosa. Magari qualcuno ha bisogno, ma solo magari ha bisogno di solo parlare, condividere la sua storia, il suo momento che ha bisogno. Oggi è molto bello, è un po' triste, ma è così che dovrebbe essere. Io ho concluso per ballo perché tristezza c'è, ma quindi svuotiamo un po' per ballo, per musica. Loro non hanno mai fatto questo passo, ballano musica normale, ma tutti quelli che ho fatto hanno fatto uguale, quindi sono molto bravi, ragazzi.